Una passione letteraria sviluppata fin da ragazzo. Massimo Mereu, 45 anni di Ostia, ha concretizzato un sogno pubblicando il libro intitolato La Luce di Elnath. La Luce di Elnath è un romanzo epico fantasy che coglie dei valori universali, quali ad esempio la forza del coraggio, valori come ad esempio il valore dell'amicizia, che è un dato imprescindibile all'interno del romanzo, la capacità di credere in se stessi, il superare i propri limiti e trovarli come dei punti di forza. È un romanzo scritto con il cuore che veramente è l'inizio poi di quello che sarà una vera e propria trilogia, quindi una saga che ci accompagnerà fino in fondo. Perché questo titolo La Luce di Elnath? Perché Elnath innanzitutto è la stella venerata dal popolo elfico degli Elfi Lunari d'Argento, ma in realtà non è altro che la luce interiore che alberga nell'animo di ognuno di noi. E quindi non certo qual modo, è un modo un po' per riscoprire noi stessi e ciò che realmente alberga nel nostro animo. Un protagonista del libro infatti è un elfo che si prende carico di tutta una serie di questioni, vero? Sì, Asgorg è il protagonista del romanzo, è un elfo di appena 14 anni, il quale si ritrova a suo malgrado a caricarsi sulle spalle quello che è tutto il retaggio poi del suo popolo. E naturalmente ci accompagnerà attraverso una serie di avventure incredibili e mozzafiato, delle quali naturalmente inoltre ognuno di noi attraverso la lettura. È stato un puro esercizio oppure magari c'è, qualcosina già detto nel corso di questa chiacchierata, o c'è un messaggio magari che si vuole dare? Beh sì, il messaggio è molto forte, è molto chiaro e penso che sia riservato non solo a un pubblico di ragazzi, ma a un pubblico che ricopre tutte le fasce di età. Ed è quello appunto di non arrendersi mai, di credere sempre in se stessi e credere anche nel valore dell'amicizia. E l'autore sta già lavorando al secondo volume di questa saga, da Ostia per Canale 10, Alberto Tabbini.